E' ladri dei prosciutti, i ladri che trovano, che trovano, sono andati dentro e hanno votato il cassetto e hanno preso diversa roba. E' la seconda volta che entrano all'interno della sede del Pollo San Marco che vedete qui alle mie spalle. I ladri hanno scavalcato la rete, si sono introdotti dal retro all'interno della macelleria molto conosciuta in città e hanno iniziato a fare incetta di carni, prosciutti, tutto quello che ovviamente potevano trovare. Poi si sono diretti verso la cassa, addirittura l'hanno portata da un'altra parte del negozio e poi hanno portato via ovviamente i denari che c'erano al suo interno, tutto ripreso dalle telecamere che si trovano all'interno del negozio. Un danno importante? Ma è importante, non grandi cifre, però moralmente ci colpiscono perché anche il registratore ha portato via tutto quello che c'era, eccetera. E niente, è già la seconda o terza volta e non si rimane bene, ecco. Ci vorrebbe un po' più di sicurezza? Ma la sicurezza, sì, sono subito corsi perché ci sta anche l'allarme e siamo venuti qua ma era già tardi, cosa si deve fare non lo so. Avete qualche telecamera interna? C'è tutte le telecamere interne però hanno lavorato con Cappucci e Compagnia Bello, sono riconoscibili. La cassa dove l'avete ritrovata? La cassa si è ritrovata in cucina, vuota, vuota, sì, sì, ma sì, grande cose, qualche centinaio d'euro.